benvenuti anzi bentornati in questa 100 tiri challenge lo sfidante di oggi sarà lionel messi lo avete scritto in tantissimi nei commenti quindi arriva proprio la pulga vi ricordo prima di entrare nella sfida scrivetemi nei commenti il prossimo giocatore che vorreste vedere ma soprattutto iscrivetevi al canale perché è gratuito attivate la campanellina e lasciate un bel like partiamo il format è semplice ovviamente un tiro un gol viene segnato su 10 tiri vediamo quanti ne fa su 20 tiri vediamo quanti ne fa poi per arrivare fino a 100 e dopo capiamo un attimino cristiano ronaldo ha totalizzato 44 gol su 100 se volete vedere il video ve lo mettiamo qui il link quindi mi raccomando andatelo a guardare recuperatelo e partiamo con questa 100 tiri challenge di lionel messi vediamo come si presenta il primo la pulga lo sbaglia secondo tiro anzi lo chiameremo germano il portiere la pulga palo zio pera palo la pulga 1 mi sono fatto il fogliettino dove mi segno tutti i tiri la pulga di nuovo zio pera attenzione il portiere fuori dai pali non sono aspetta lì 2 su 6 e mancano 4 possiamo chiudere questa batteria devi fare gol devi fare gol leo devi fare gol leo devi fare gol leo anche il nono il decimo anche il nonno il decimo ma che sempre difficile la prima batteria ragazzi è sempre difficile è abbastanza curioso perché comunque messi dovrebbe farli questi gol però raga ve lo assicuro perché importa è veramente forte finito il primo giro 2 su 10 diciamo che poteva andare meglio però ronaldo aveva fatto uno su 10 ragazzi partiamo con la seconda batteria a giro la pulga o butta cerguanto proprio courtois mannaggia te messi messi la schilla così la schilla poi d'esterno messi la mette a giro proviamo un po proviamo un po un po così boom ma zio pera ma le prende tutte prendi questa zero su quattro non più uno la butta io nel messi proviamoglielo proviamoglielo così proviamoglielo boom ma 2 lionel 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 ce ne abbiamo un altro ragazzi mea culpa qui ho sbagliatissimo io perché ho svanturato il power manca un tiro manca un tiro la mettiamo a giro la mettiamo lì parata la parata siamo a 5 su 20 ragazzi la mette a giro d'esterno la incrocia lì 6 su 22 fa pinta di metterla a giro poi la butta ragazzi devo cambiare portiere troppo forte troppo è troppo veramente troppo forte il portiere avete visto arriva ovunque pollo 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 sette su 25 io nel mese io nel mese io nel mese io nel mese la pulga la pulga la pulga la pulga a giro comunque ragazzi fatemi sapere tra l'altro nei commenti ditemi secondo voi chi vincerà mondiale e ditemi secondo voi l'argentina dove arriverà in questo mondiale la metti a giro lì la metti a giro lì le para tutte mamma mia oh ti odio di prima di prima di prima di prima non ci credo ci credo e tirà giro e tirà giro ragazzi siamo 8 su 30 cristiani rinaldi era a 6 su 30 o io ragazzi vi sfido a mettere a mettere purtroppo importa io non so se il livello della della modalità che io metto per le amichevoli o per le carriere punti qualcosa ma questo è livello massimo è troppo forte no questo però vecchio metti la giro lì dove non batte il sole valla a prendere valla a prendere mettila lì la mette sul primo la mette sul primo la mette sul primo siamo partiti benissimo le para anche questa pare anche questo zio pera parala la incroci benissimo vecchio però questa la mette dentro questa la mette dentro l'ion è impossibile fare gol a courtois metti la giro che non se lo aspetta le para tutte 10 su 40 cristiani rinaldi era 9 su 40 eh vai sto go raga ma avete visto quanto è forte ora te la metto così che sei godo godo non puoi farmi di più no non è vero non ho capito niente spostati di qua spostati di qua che te la metto lì 12 su 43 boom palo di nuovo ma quanti pali ma quanti pali ma quanti pali zio pera quanti pali premi gol mettila lì mettila mettila lì a giro a giro a giro a giro e 14 su 47 ne mancano tre ne mancano tre lì io nel mamma mia ma lo sapete che è quasi messo come ronaldo se sbaglia questo io nel dice io non sono secondo a nessuno bam siamo a 15 su 50 uguale a cristiano cristiano ora iniziava ingranare di brutto aveva iniziato ingranare di brutto 16 16 ma che parata ha fatto edici su 53 dai fai sto gol 17 su 54 non mogli un cabo lionel dicio incrociala lì e ti la giro dove non batte il sole lionel e para tutte a questo lionel messi 19 su 60 40 tiri mancanti appoggio il joystick piccola riflessione scrivetemi nei commenti se secondo voi bisognerebbe andare a togliere la difficoltà così alta al portiere perché secondo me è estremamente forte ok che noi vogliamo il portiere però è illegale basta solo dirlo basta dirlo sei illegale courtois sei illegale sei fortissimo courtois se la porta su sinistro traversa porca trota l'ho in pallino l'ho in pallino e dopo d'esterno a giro a giro a giro a giro e e e e e e e e e la possibile e poi pom 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 25 su 68 25 25 su 70 26 su 71 andiamo se la chiudi a 30 secondo me fai una gran roba 27 io nel lionel 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 28 su 73 vai lionel vai lionel vai lionel 29 su 74 e on fire e on fire la vuole fare tutta la batteria la vuole fare tutta fai sto gol 29 30 su 78 puoi pareggiare ronaldo non puoi pareggiare fondamentale per la buona riuscita di lionel lionel testa testa cristiano e lionel messi ricordo che cristiano ne ha fatti 12 negli ultimi eventi lionel lionel 33 su 82 andiamo 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 34 su 73 E la porta di là per tirare a incrociare Papera, papera di Courtois 35 su 76 No, non ricordo Non ricordo 36 dai diciamo 36 36 su 77 Lionel, Lionel, Lionel Che parata di Courtois Provala Ok, ora 38 su 76 Ora 38 su 77 A giro, a giro Ha due tiri a disposizione, uno lo usa bene 39 su 79 Lionel, Lionel, Lionel 39 su 90 Deve fare 6 gol Deve fare 6 gol per battere Cristiano Il primo Palopara La mette a 39 40 Lionel Messi Lionel Messi Lionel Messi 41 Su 70 Su 94 Meno 3 dal pareggiare Cristiano Meno 3 dal pareggiare Cristiano Gol E gol, e gol, e gol Meno 2 La butta sul primo Paratona di Courtois Paratona 42 su 97 Ragazzi deve fare 3 su 3 E gol Può battere Cristiano Palo Non ci credo E allora adesso O pareggia O perde Lionel Messi E c'è il pareggio Clamoroso Cristiano Ronaldo E Lionel Messi E allora adesso ci tocca fare una sfida All'ultimo respiro Messi contro Ronaldo Insieme Nello stesso video Se questo video Raggiunge I 100 Mi piace Arriverà la sfida Messi Contro Cristiano Ronaldo Fatemi sapere nei commenti Se questo video vi è piaciuto Quale altro giocatore vorreste vedere Ma soprattutto Lasciate adesso il like E iscrivetevi Ciao ragazzi Ciao ragazzi